Buongiorno a tutti, siamo qui con il dottor Maurizio Fasano e con lui parleremo di un aspetto innovativo, originale, a cui la società, la Provercelli, ha voluto dare grande risalto, grande importanza. L'anno scorso il dottor Fasano ha iniziato una collaborazione con lo staff medico-sanitario con il preparatore atletico Stefano Bortolan e quest'anno nel 2014-2015 per il campionato di Serie B ormai alle porte questo discorso dovrebbe proseguire, dovrebbe articolarsi ancora meglio. Dottore si presenti lei e ci dica bene qual è il suo profilo e il suo impegno agli amici di Fraser TV e a tutti i tifosi della Provercelli. Sì grazie per l'invito, io mi occupo da tempo ormai di nutrizione dello sport, vengo come formazione da un'area metabolica nel senso che sono specialista in endocrinologia e dall'anno scorso contattato dal direttore Massimo Varini abbiamo iniziato questa collaborazione con molto entusiasmo che quest'anno proseguirà sugli stessi binari con un programma spero altrettanto fortunato e di conseguenza cammin facendo vedremo diciamo quali sono i feedback che ci ritornano da una collaborazione di questo genere in merito appunto alla nutrizione, all'integrazione che i ragazzi devono seguire. Ecco noi innanzitutto approfittiamo per ringraziare i fratelli Viazzo e lo store di Lab che oggi ha grande, oggi ospita questa intervista e quindi si inserisce in un contesto perfetto e collegato tematicamente al discorso e agli argomenti che tratteremo con il dottor Fasano. Dottore entrando un po' più nello specifico il ruolo del nutrizionista per uno staff tecnico, per una squadra di calcio in che cosa consiste? Quindi parlando proprio concretamente qual è il suo apporto che deve dare settimanalmente al professor Bortolan, all'allenatore, al direttore o comunque a quelli con cui deve avere appunto i rapporti? Sì diciamo che la nutrizione dello sport si affianca al lavoro di preparazione dello staff in quanto ormai nello sport i carichi di allenamento sono veramente molto grandi e di conseguenza è impensabile riuscire a supportare una performance solo con l'allenamento. Ci deve essere un programma strutturato di alimentazione e di integrazione e deve essere giornaliero e deve essere diciamo programmato in base ai cicli di allenamento che possono essere cicli appunto stagionali ma anche settimanali e quindi con lo staff abbiamo dei feedback continui in merito diciamo al comportamento di tutta la squadra e poi nei singoli casi per i vari giocatori a seconda dei problemi che abbiamo che siano quelli di migliorare la performance oppure diciamo integrare un recupero e così via. Ecco dottor Fasano, la Provercelli quest'anno nel campionato di Lega Pro ha giocato fino a giugno inoltrato avendo 30 partite di regular season e le 5 di playoff che poi fortunatamente sono andate a buon fine e abbiamo ottenuto la promozione in serie B. Lo stacco, l'intervallo, le vacanze sono state direi abbastanza ridotte perché poi il 13-14 luglio i ragazzi si sono ritrovati in città. In questo periodo estivo che tipo di tabelle di marcia o che tipo di discorsi avete impostato con il professore? Avete già diciamo lavorato in questa parte estiva pre-lavoro immagino? Sì esatto, innanzitutto abbiamo iniziato col fare una valutazione corporea degli atleti per vedere il punto di partenza insomma di questa stagione e su questi dati noi ci baseremo poi nel nel proseguio e abbiamo iniziato la collaborazione in merito al raduno di Cantalupa e questo riguardo diciamo ai menu giornalieri che i giocatori devono seguire perché comunque anche se siamo in pre-season il lavoro è comunque molto importante perché è preparatorio e soprattutto i volumi come dicevo prima sono anche più grandi perché insomma gli allenamenti sono bigiornalieri e di conseguenza c'è bisogno anche di più calorie in questo senso. E infine un'ultima domanda prima di congedarci quest'anno la serie B prevede un calendario più ampio perché naturalmente le squadre sono in numero superiore rispetto all'anno scorso ci saranno delle settimane con un triplice impegno ravvicinato anche questo farà variare il vostro modus operandi? Sì anche se poi i dettami diciamo della nutrizione della sport rimangono sempre abbastanza fissi diciamo che in questo caso diventa molto più importante quella che è la fase di recupero senza quello non si può pensare di fare una programmazione perché senza recupero la percentuale di infortuni diventa più elevata e anche il livello delle performance scade quindi lavoreremo soprattutto su questa fase qua quella del recupero. Noi con questo abbiamo concluso ringraziamo il dottor Maurizio Fasano ringraziamo D-Lab dei fratelli Viazzo che ancora in questa occasione ci hanno ospitato per questa intervista ringraziamo tutti i tifosi della Provercelli gli amici di Fraser TV dando appuntamento alla prossima puntata la prossima intervista.